Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Annalisa emerge come la vincitrice del Controfestival 2024 con la sua canzone Sinceramente. E ottiene il riconoscimento come il brano più apprezzato dagli ascoltatori di Radio Bruno. La sua performance supera la concorrenza, posizionando Annalisa al primo posto della classifica, seguita dai Rama con Tu No e Loredana Bertè con Pazza. Al di fuori del podio, troviamo Angelina Mengo con La Noia, precedendo Gali con Casa Mia e Mahmoud con To The Goal. Inaspettatamente, Geolier si classifica ventesimo con Ipime, Tu Pite. Annalisa, già protagonista al Festival di Sanremo con il brano Semplicemente, si è posizionata al terzo posto nella classifica finale dell'evento. La canzone è inclusa nella nuova versione dell'album e poi siamo finiti nel vortice, pubblicato il 9 febbraio.